Non lo conosce, non lo conosce mai, non lo conosce, ma non lo conosce per niente. Al fine non trovo da me. Al fine del giornale, non lo ho messo, ma non lo ne ho messo la testa. Scangeli quel coso, scangeli il mercolato sulla cosa, la tecropologia. Ho l'indicato io qua, tutto la bene, no perché c'è una bella casa, ma c'è una bella casa, questi me l'hanno fatto loro, sono 50 anni ho costruito io, me l'ho rubato io, tutti che giornalista a casa mia? Ma che vuoi? Quando ho messo solo giornalato. Ma io non faccio la fare niente. Signora, me lo diamo per favore. Dimmi. Eh, questa mattina mi vengono sempre lì. Sempre viene a prendere il caffè e costi. Dio un po', quando ho per il tuo figlio. Mi conosce a me? Certo, dimmi. Vi ho fatto parecchie male a voi. Il caffè me lo porto sempre lì. Non c'entra niente il caffè. Perché vengono a prendere il caffè? Perché non lo conosce a me? Non lo conosce a me. Non lo conosce a me. Ma non lo conosce per niente queste caffè io. Ora, se io sono un lato, mi conosce già io, non conosce la tua. Hai capito? Ha una sbagliata parte. C'era lì che volete. Puro, puro disgraziato. È morto fatto proprio in pace. Come è morto infatti? Sì. Ma no. Ma noi siamo impiduti noi. È morto il mio nonno con i carrossi. È morto con i carrossi. E mio padre è morto. Tutta la famiglia nostra. Quello di Napoli. Che ha pronti quella cosa. Quella pare dice che c'era il limite. Quello è buttato le fiori. Ma che è morto? Ma che è morto? Ma che è morto? Ma che è morto? C'è la polizia. C'è la polizia. Quelli che sono sbagliati. Però magari lei è il capo stipite. Gli può dire. Ma che è morto? È morto. È morto la famiglia mia. È morto. A me mi conoscono tutti. Le chiedono il piacere. La gente che vede. Che sono tutti i giornalisti? 300 persone con i telecamera. Ma che vuoi? Sì, vabbè, ma non c'è più. Un po' di bella camera. Un po' di bella camera. Un po' di bella visibilità. Ma avevano fatto il stand del sudore. Ma sai quanti cavalli ho scelgato? Io devo marciare dei cavalli. Non so, questi... È brutto pure mettere i casamoni. Secondo... Mettetelo ma in cognome. Al fine l'altro l'ho messo. Al fine l'ho messo. L'ho messo il giornale. Lo è messo. Ma non lo ha messo. Non lo posso farlo sulla testa. Scangele quel po'. 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 Lo tecnologico. Stai capito? Sto litigando ancora i colori di giocamani. Se lo scelano così. Ammazzo che testatura. Cosa suvito. Outro. Chi casa un'è! Scangele quel po' Grazie a tutti